Grazie a tutti 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 Pepe Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Con una bacchetta laterale Grazie a tutti Grazie a tutti Ancora Veloce 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 Grazie a tutti 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 Vevi se c'è una croce qui? Te l'ho battuto? Dove? No Tra quella che c'era In 1919 15-1919 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti C'era uno che faceva gesti Cioè era Geometra Mori Diceva di non parlare rumore E forse perché Stavolta Scusate a vedere Siamo su una Forse no Stavolta 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 Sì, veramente. Ma dovevi sapere come sono partiti quando gli ha dato il ritmo? Ma guarda, sta girando, guarda, sta girando. Scarozza. Veramente bello. Ci sarebbe da presentare la band. Salutiamo, ragazzi. Grazie. Grazie per la prima esperienza. Aggiungiamo nel curriculum qualche altra cosa. La mia crucis è la nostra. Ci stiamo allenando anche per il funerale. Quella non la fosse. Ma avete un nome? Avete un nome questo complesso? Sì, i campanari. San Sebastiano Boyce. Ciao, è io. Dovremmo chiudere però con qualcosa da che farà con te Sebastiano. I jungle bells.